La cantina è questa, ma lì chi è? Ma questa è a me pare, è la cantina di Alessandro De Mano Ma speriamo Lo trovo a chiamare la cazzo Vabbè io abro Vabbè Vabbè io abro Vabbè io non ci credo Non so perché niente No io sono stato due settimane fa qui e non c'era nessuno Evidentemente si è materializzato Cioè E' vivo? Facciamo Sì ma mi dovete dare delle spiegazioni su questa cosa Cioè nel senso io non so che c'è un altro Che ci hanno portato via adesso Diciamo 3, 2, 1 Vabbè Andiamo a prenderlo Cioè nel senso io non so che c'è un altro video Vabbè io non so che c'è un altro video